Devo dire che siamo partiti meglio noi, avevamo possesso, abbiamo creato due occasioni, una costatella e una con Adorante. Loro nella prima ripartenza ci hanno fatto gol. Poi dopo abbiamo giocato noi, come dici tu, ci è mancato l'ultimo passaggio, ci è mancata la possibilità di attaccare la porta in modo incisivo. Gli ultimi cinque minuti del primo tempo loro poi hanno avuto due palle, gol, che ha fatto tutti i buoni preparati su errori nostri, perché in palleggio davanti all'area di rigore abbiamo perso palle e gli abbiamo concesso queste due opportunità. Il secondo tempo ho cambiato modulo, ci siamo messi 4-4-2, ho messo un altro attaccante, ho tolto il centrocampista, un quarto d'ora ho tolto anche due stermi, ho messo dentro Catania e Russo per poter attaccare meglio l'area di rigore sui loro cross. Però abbiamo creato, meritavamo anche il pari, ma loro poi in una ripartenza non trovavano il secondo gol. Siamo rimasti in partita per inerzia, però era difficile poi a quel punto rimontare due. Dobbiamo ricompattarci, dobbiamo prendere qualcosa di buono, è stato fatto, dobbiamo migliorare le cose che abbiamo sbagliate, dobbiamo lavorarci a migliorarle. E poi, ripeto, affronteremo le partite una alla volta. Mi dispiace tantissimo per i nostri tifosi che hanno fatto un viaggio lunghissimo e brutto, perché le condizioni per arrivare a fin qui non sono le migliori. Mi dispiace per loro perché il viaggio di ritorno, sicuramente come il nostro, sarà un viaggio di ritorno pesante.